Bella a tutti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video di SanoDoc e oggi siamo qui per parlare della guida all'evento TOTI Tra parentesi Quante sono fighe le nuove tracce musicali che hanno messo in questo gioco? Fichissime Non è per qualcosa, adesso non posso farvele sentire Vando le scrivete da soli quando giocate Perché sennò mi buttano giù il video Però, fichissime, è incistante Tutututututu Vabbè, comunque lasciamo perdere Detto questo, devo ricominciare ragazzuoli Un bel like qua sotto Commentate con cosa volete vedere nel prossimo video Se magari volete un'analisi dei giocatori Che sono usciti adesso Dove i TOTI perché ci potrebbe stare come cosa Iscrivetevi al canale se questo video vi è servito Tutte queste cose qua Direi di partire subito Prima però, se ci avete voglia Fate anche un salto nel link in descrizione Per venire su Instagram Dove vi tengo sempre aggiornati con le news e tutto quanto Link in descrizione Appunto, io partirei Come in tutte le guide A mostrare come si gioca Poi guardiamo I punti che si fanno E vediamo cosa è e cosa non è Free to play E poi guardiamo anche che icone Sono free Vabbè ragazzuoli E ora cominciamo da come giocare Andiamo nella sezione missioni Ci sono qui per presentarvi M2 Calcio Un sito di maglie Davvero molto molto bello Dove trovate maglie retro Maglie di qualsiasi genere Personalizzabili Ragazzuoli a me Mi hanno inviato questa maglia Della Juve Davvero ultra figa Ultra fatta bene Ho selezionato appunto Di prendere il mio nome Col numero 10 Non ho idea del Piero Anche se non sono così forte Ovviamente Però Ragazzuoli Maglie davvero fantastiche Ne ho prese tantissime E ora vi mostro il sito Perché se comprerete lì Appunto avrete anche Il 10% di sconto Inserendo il mio codice sconto Quindi Andiamo al sito Per visitarlo un pochettino Ed eccoci qua Con la nostra magliettona Inserita nell'apposito sostegno Ragazzuoli Allora Come fare ad inserire il codice Come potete vedere Già soltanto Maglia Calzoncini E pantaloncini Della Juve Appunto Selezionate la vostra taglia Mettete il vostro numero Personalizzato Con anche il nome Potete mettere il vostro nome Il nome di Una vecchia leggenda Qualsiasi cosa Potete mettere I pack appunto In base a cosa ha vinto Nella stagione precedente Ovviamente la vostra squadra Del cuore Eccetera eccetera Potete anche mettere Che ha vinto lo scudetto Il Cagliari per esempio Se vi piace così Una volta fatto ciò Bisognerà andare appunto Nel check out Del carrello Ragazzuoli Eeeh Vi ritroverete In questa situazione Qua Una volta fatto questo Appunto Dovete selezionare Tutte quante le vostre cose Il codice postale Tutte queste cose qua Andando giù 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 Nelle cose di pagamento Troverete appunto Oltre Se usate una cosa Un ulteriore sconto Poi ci saranno Le cose di consegna Tutte queste cose E i buoni sconto Ecco Qua Se inserirete Il mio codice sconto Che è DOC DI Appunto Aggiorniamo Avrete che potete vedere Il 10% Di sconto Grazie al mio codice sconto Appunto Davvero molto molto semplice E con acquisti Superiori A 79 euro Avrete anche La spedizione Gratuita Davvero Molto molto Bello Come servizio Le maglie arrivano Perché potete vedere Ce l'ho Appunto E hanno un costo Davvero irrisorio Sono copie autorizzate Ovviamente non sono Originali Perché comunque potete Personalizzare Fare come volete Però per essere Delle copie autorizzate Sono davvero fatte bene Costano davvero poco E hanno una buonissima Qualità Quindi io ve lo consiglio Davvero tanto Anche perché Altrimenti Non ci avrei messo la faccia Detto proprio sinceramente Bene ragazzoli Se farete gli acquisti In questo sito Mi raccomando Vi raccomando Di mettere il mio codice sconto Così avrete un ulteriore sconto Del 10% E se riuscite di fare acquisti Sopra lì 79 euro Così da avere anche La spedizione gratuita Detto questo ragazzoni Vi lascio con il video A presto Allora avremo Avremo le nostre sezioni Missioni Non ho ancora giocato Non ho avuto ancora il tempo Di fare chissà che cosa Sono entrato giusto Ieri sarà un 20 minuti Comunque Appunto Abbiamo la nostra sezione Dove dobbiamo fare le cose giornaliere Le cose settimanali E le cose appunto Menzele Veramente Molto molto semplici Io ho già completato La cosa degli scambi Perché è ancora Più semplice Quindi Basta fare gli scambi Che vi dicono E prendete tutti quanti I pacchetti Già fatto Da qui ottenete Dalle toti missioni Ok Da tutte queste cose qua Si otterranno Tot di punti appunto Come potete vedere Due gettoni toti Che saranno un totale Di mille Perché appunto 200 più 100 Fa 300 500 600 700 Più altri 300 Di qua Quindi mille totali Più mascherano Ok Quindi noi abbiamo Mille Gettoni toti Qui Ok Molto molto semplici Che ci serviranno Nella sezione Dei nominati Quindi andiamo a vedere Come giocare il nostro evento Allora La sezione principale Toti Ci serve solo E unicamente Per andare velocemente Al pass Per andare velocemente Alle varie cose Che si possono fare In questo evento Quindi le sfide Le offerte Le missioni Gli scambi Eccetera Eccetera Si potranno vedere Con più facilità Quali sono le carte Dei candidati A B C Gli utoti Le menzioni d'onore Che ovviamente Usciranno Mano a mano Nelle settimane Quindi la sezione principale Diciamo che Nell'evento Ci è un po' inutile È soltanto una cosa utile Per avere Dei click veloci Fondamentalmente Ok Andiamo nel percorso Che ci interessa Appunto il percorso Candidato a Ogni qualvolta Che completate Una di queste missioni Qui Ok Vi darà un tot Di progressioni Sfida tot Arrivati a 100 punti Tutti i giorni Ovviamente A completare Questa barra Che si trova Qua sotto Appunto Adesso ve la sposto Più vicina Così posso indicarvela Questa barra Qua sotto Appunto Riceverete 100 punti Toti Ok Poi ogni settimana Verranno moltiplicati Questi punti Toti Adesso poi vi lascerò Appunto una scheda Qua Molto molto veloce Per farvi capire Eccoci qua Allora Praticamente 100 punti Ok Che sono questi 100 punti Quelli che leggete Là sopra Ok Li avremo Appunto Tutti i giorni Più la pubblicità Quindi le due pubblicità Che ci danno in totale 10 punti Quindi sono 110 punti Per affetto Appunto Come potete vedere Nel prima Nel primo weekend Il massimo possibile Prendibile Di gettoni Toti È 1100 Poi subirà Un aumento Del per due E quindi Si avranno La possibilità Di prendere Ben 2200 Punti Poi La terza settimana Si avrà Arriverà Fino a 3300 Punti Perché aumenteranno Le sezioni Da giocare E eccetera E eccetera E quindi Si potranno Ottenere più punti Potete vedere Fino alla quinta settimana Ci sarà poi un cap Massimo di 3300 Punti Prendibili Dalle Toti Quest Quindi le missioni Che abbiamo visto prima Saranno soltanto 1000 punti Per un totale Dei punti Token Free to play Di 14200 Che ci serviranno Per fare un botto De roba Ragazzoni Perché adesso Vogliamo queste immagini qua Che poi ve la lascerò Su instagram Così se la volete Avrà potete andare a prendere Quando volete Guardarvela Insieme ad altri due Che potrebbero essere Vi utili Diciamo per facilitarvi Il gioco Ok Quindi seguitemi Anche su instagram Ovviamente Che si andranno A spendere qua Questi punti Allora Noi ne abbiamo 14000 Quindi sono davvero 14200 Per essere precisi Ma Qua Per completare Tutta questa sezione Prendere Un 86 gratis Prendere Appunto Questi qua No Perché raga Vedete che Qua c'è la lineetta Che potete scegliere Se andare dentro Questo percorso O sotto Voi dovete andare sotto E quindi andare direttamente qua Ok Perché Prendere 88 89 Che vi servono Nulla Quindi Andate direttamente di qua Per arrivare a questo punto qui Quindi Tra la scelta Tra Mascherano E appunto Il premio Tipo Modric Benzema L'82 L'89 92 Servono Per arrivare precisamente A questo punto Servono 1020 punti Utoti Cioè Toti Scusate Ok Gettoni Toti Per andare a Mascherano Basterà aggiungere 250 punti Quindi 1270 Per Mascherano Mentre invece 1480 Per uno Tra Modric Ovviamente Benzema O il premio Asculata Ovviamente Ok Quindi Non è male Perché con Soltanto 1480 punti Noi riusciamo Noi riusciamo ad avere Tutta questa roba Gratis Ok Quindi Tutto questo Coso è gratis Anche il percorso B Riusciremo a farlo tutto E anche il percorso C Molto probabilmente Poi ci sono questi punti qua Che si possono prendere Questi giocatori qua Si può stare in questo pacchetto Si può stare in questo pacchetto E continuare a spacchettare Al costo di 100 punti Come potete vedere Cioè 200 per 2 Ma 100 per 1 Quindi si può continuare a spacchettare All'infinito con i punti che avete In aggiunta Quindi molto molto semplice Oserei dire Potete prendere appunto Questa sezione qua Questi che siete da prendere Volendo tanto Non costa niente Costa 100 punti Fate un 85 Un 86 Erano già comprese Nei mille punti Che avevo calcolato prima Quindi prendeteli Senza problemi Poi se volete Potete prendere anche Questi giocatori qua Che se vi avanzano punti Potenzialmente Non volete provare le sculate Volete delle cose sicure Magari per gli scambi Ovviamente Questi giocatori qua Potrebbero esservi d'aiuto Ma io non li consiglio Piuttosto provate a sculare qua Ma aspettate Un pochettino Perché ovviamente Meglio completare Tutte e tre le sezioni Perché? Perché dall'emissione Ultime Toti Come potete vedere Richiede che Nell'obiettivo candidato A Di ritirare 30 premi Nel percorso capitolo candidato A E chiederà la stessa cosa Anche nel B E nel C Quindi bisogna fare queste cose Per poi ottenere Uno Toti gratis Ok? Tra Allyson Frimpongo O uno tra 92 e 97 Anche vendibile Ok? Quindi mi raccomando Bisogna andare a completare Tutti i percorsi prima E poi Si può tranquillamente Utilizzare tutti gli altri punti Per provare le sculate Nei percorsi Senza nessunissimo problema Ok? In questa maniera Otterremo tutti I giocatori che ci sono Nei percorsi Fondamentalmente Gratis Ok? Quindi Per esempio Un Modric 92 Non è male Ma come anche questo Benzema Non è male Modric è un'altra storia Parte già con 98 di passaggi 95 di dribbling E tanta tanta roba Appunto Ma come anche il premio Da 89 a 92 Non è che ci sono dei giocatori scarsi Federico Chiesa Esterno sinistro Per esempio Non è per niente male Per essere un 91 Anzi è molto molto potente Ok? Questo diciamo è l'evento Poi c'è la sezione Evoluzioni Icona Dove io ho scelto Cannavaro Raga Ma perché È veramente forte Cioè poi allora Rivaldo Non mi piace Per questo cacchio Di tre di piede debole Ma questo Cannavaro Raga È veramente forte Ma che cazzo Ha visto? Allora ok Che bassino Mi darà fastidio Però per Versus attacco E ha in modalità allenatore È molto molto buono Poi comunque Ha un botto de salto Cioè ha quasi 100 Di base Quindi davvero Niente niente male Lo voglio provare E tra i tre Mi sembrava quello Un pochettino più spisellante Perché Lampard sì Non è male Però Non lo so Essendo che C'ho Pirlo C'ho Gerard E altri Cici Già a livello massimo Non ha senso andare a prendere Un altro che devo poi potenziare Con il Mascherano Sempre in quella posizione Mi vado a prendere Un Cannavaro Così Posso sacrificare Tipo Rudiker O Tapsoba Metterli su di lui Il livello di esperienza E lui Nel verso Nelle cose Ovviamente la Gen Ed è anche molto potente Cioè io Adesso È davvero potente Raga sta cosa Poi arroccia Allora nel verso Nella modità allenatore Lui è davvero forte Nell'H2H In una difesa 3 O 5 Sicuramente rende In quella 4 Che uso io Purtroppo non tanto Però Dunque è davvero forte Cioè non c'è cazzo da fare Quindi avremo anche Uno di queste icone gratis Ma non è che Una di queste icone Avremo tutte queste 4 icone Per riceverle Ovviamente Bisognerà andare a giocare Le partite Fate voi Quali partite Allora ogni giorno Noi riceveremo 3 di energia Fondamentalmente Poi se ne vogliamo di più Si usano le gemme O i fifa point Davvero poche Ma si può tranquillamente Usarne di più Se serve Ok Basterà raggiungere Appunto In 3 weekend Si riceve Il Cannavaro O il Rivaldo O il Lampard 93 Quindi ci vuole davvero poco Molto molto poco Basta vincere Fare qualcosa Poi Ovviamente Si può fare anche La partita base Però io consiglio Il versus attacco Perché è bello veloce Rapido In allegria Si vince Non c'è nessunissimo problema Davvero molto molto rapido Senza nessunissimo problema Poi con i punti Che noi prendiamo Da qui Per questo che Io vi consiglio Il versus attacco Ma anche più il confronto Perché dà più punti Fondamentalmente Perché poi Quei punti li si potrà andare A sprecare In questa sezione Dove ci sono comunque Delle sculate notevoli Per esempio Anche questo pacchetto qua Che non si può aprire Però si sblocca Il 27 gennaio Appunto Tra due giorni No Tra due giorni Questo pacchetto qua Costerà un tot Ma è da 88 A 97 Può darvi una bella sculata Poi qua in generale Vi danno giocatori A Yosa Quindi Serve anche questa sezione Perché oltre all'icona Evento Molto molto potente Riceverete anche Delle belle sculate Magari O comunque giocatori aggiuntivi Per allenare Non male in generale Poi si apriranno Le altre sezioni Le menzioni d'onore Quindi bella lì Abbiamo anche Ovviamente la challenge mode Che avevo già fatto vedere Ieri Che Quelle Dei giorni feriali Saranno situate In questa maniera Saranno strutturate In questo In questo modo qua Quelle invece Del weekend Saranno strutturate Come quelle del giorno invernale Quindi Possibilità di sculate Incredibili Ok ragazzuoli L'evento È qua È questo al momento Ok Molto molto semplice Se avete qualche domanda Scrivetemola qua sotto Nei commenti Magari domani Ci facciamo un'analisi Sui giocatori forti Di questo evento E poi andiamo a vedere Magari Facciamo una live insieme Dove giochiamo all'evento insieme Facciamo la modalità sfida Prima masculare Eccetera eccetera Fatemi sapere voi Ragazzuoli Magari domenica La live Che ne pensate Magari domenica O sabato O pomeriggio Ci può stare Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E ovviamente Fatemi sapere Se questo video Vi è servito Passate nel link In descrizione Per seguirmi su Instagram Se volete Perché vi lascerò Poi la tabellina Ok Dei Della guida Toti Insieme ad altri due cusucce Quindi nel caso Che vi serva Ovviamente passate da lì Nel negozio Ho visto Che mi avete chiesto In molti Che cosa andare A cercare di sculare Andiamo a vedere Proprio velocissimamente Prima di chiudere Allora Sicuramente Questi qui sono i pacchetti Quelli un pochettino Più in risalto Che sono anche quelli consigliati Ok Dove ci sono giocatori Che effettivamente Potreste sculare Che sono scambiabili Che non sono Che non è che Sono scambiabili E quindi È un problema In quel caso No Quindi Per esempio Questo io uno l'ho aperto Perché vi dava comunque Un bonus Di uno non scambiabile Che però poteva essere Molto molto alto Uno l'ho aperto Non è andata bene Non ho trovato un cazzo Devo essere onesto Cioè quello più alto Che ho trovato L'ho messo su Instagram Ed è un Kim Fortissimo Fortissimo come carta Però non serve a niente Diciamo che i pacchetti Migliori da prendere Sono questi No Magari anche l'ultime toti Questo qua è bello Bello forte Come cosa Perché potete trovare Anche delle carte Ultime toti Appunto come l'Ernandez Eccetera 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 E non è per niente male E a questo Nedved Raga Mi ha chiamato Quanto cazzo è forte Porca miseria Marò Quanto è forte Marò Quanto è forte Non voglio neanche vedere Troppo potente Come anche questo C'è il signo Ma che roba Mamma mia Come questo Ronaldo Questo Ronaldo È una cosa pazzesca È una cosa pazzesca Li mettete destrezza Sto coso qua Diventa un treno a motore Allucinante Allucinante Per non parlare di Van der Sar Raga Van der Sar In questo momento Secondo me Ma senza neanche Averlo mai provato Sono più che sicuro Che sia il portiere Più forte del gioco In questo momento Comunque Tralasciando queste cose Che le vediamo poi domani Ragazzuoli Noi ci troviamo domani Con un nuovo video Fatemi sapere qua sotto Se questo video deve essere vinto Passate nel link In descrizione Like, commento, iscrizione E ci troviamo domani Sempre solo qui Su DocD Ciao Ciao Ciao